Dopo 259 giorni l'Abruzzo da lunedì tornerà in zona gialla. A differenza di quanto accadde in primavera, era il 26 aprile, quando la nostra regione vide allentare le restrizioni dall'arancione, in questo caso si tratta di una retrocessione dalla zona bianca che per mesi aveva accompagnato la vita degli abruzzesi. Troppo alti i contagi a cavallo tra dicembre e un inizio disastroso di gennaio. Quasi il 20% dei contagiati, quasi 24.000 dall'inizio dell'emergenza, sono emersi solo nell'ultima settimana, in assoluto quella caratterizzata dai numeri più alti. Fino al 29 dicembre l'Abruzzo non aveva mai superato i mille nuovi positivi in 24 ore. Da quel giorno non è mai scesa al di sotto di tale soglia, con il record assoluto di 5.315 nuovi casi dello scorso 5 gennaio. La variazione dei nuovi casi registrati nell'ultima settimana rispetto ai sette giorni precedenti e pare al più 120%. In sette giorni i pazienti ospedalizzati sono passati da 194 a 298, con una variazione del 50% circa. Quelli in area non critica sono cresciuti del 51%, mentre quelli in terapia intensiva sono aumentati del 25%. Il maggior numero di nuovi casi è emerso nel Chietino, seguito dal Pescarese, dal Terramano e dall'Aquilano. Ed ecco per quale motivo ieri nel tardo pomeriggio il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze che riguardano anche Toscana, Emilia Romagna e Val d'Aosta. Ma cosa cambia per i cittadini? L'obbligo principale è quello di indossare la mascherina all'aperto, oltre che nei luoghi pubblici al chiuso. E del resto la mascherina all'aperto era già obbligatoria da qualche giorno per ordine ministeriale, anche all'aperto e anche in zona bianca. Sui mezzi di trasporto, anche locale, inoltre serve la FFP2. Nessuna distinzione tra vaccinati e non, la mascherina va indossata sempre. Per quanto riguarda gli spostamenti non ci sono restrizioni, ci si può muovere all'interno del proprio comune, negli altri comuni e nelle altre regioni, così come non c'è alcun tipo di coprifuoco o limite di orari per potersi spostare. Ma da lunedì, per effetto del decreto Draghi del 5 gennaio, il Green Pass rafforzato servirà sui mezzi pubblici, al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, per musei e mostre, al chiuso per i centri benessere, per i centri termali, parchi tematici e di divertimento, le sale gioco, le sale bingo, le sale scommesse, alberghe, strutture ricettive, sale, fiere e centri congressi. Inoltre non ci sono particolari limitazioni per i negozi, le attività commerciali rimangono tutte aperte senza limiti di orario, lo stesso vale per i centri commerciali. Solo chi è in possesso del super Green Pass, quindi vaccinati o guariti, può sedersi e consumare al chiuso, dove, e questa è la principale novità, il numero massimo per sedersi allo stesso tavolo sarà di quattro persone. Chi ha il Green Pass base, quello ottenuto col tampone, potrà sedersi solo fuori. Le discoteche resteranno chiuse fino al 31 gennaio, gli impianti sciistici restano aperti anche in zona gialla, ma anche in questo caso cambiano le regole da lunedì. Se fino ad ora per gli impianti all'aperto non era richiesta nessuna certificazione e per accedere a quelli al chiuso era richiesto il base, da lunedì serve il rafforzato in tutti gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici. Inoltre le scuole sono aperte e la didattica è in presenza al 100%, con l'eccezione di eventuali classi in quarantena per casi positivi. Green Pass necessario per gli studenti universitari, ma è sufficiente la certificazione base, con le nuove norme obbligo di vaccinazione invece per il personale universitario.